Non è iniziato nel migliore dei modi il progetto sostenuto dalla Camera di Commercio di Lodi e dalla sede locale del Centro di Ricerca in Biologia e Biotecnologia applicata in agricoltura. Si tratta, come hanno spiegato ancora Pierfrancesco Cecchi, Presidente della Camera di Commercio, Aldo Ceriotti, Direttore del Centro di Ricerca e Alessandra Stella, Ricercatrice Senior al CNR, di far incontrare la piccola e media impresa del settore agroalimentare con la ricerca scientifica. Per questo sono stati stanziati 1.100.000 euro, 800.000 dei quali destinati in particolare a sviluppare progetti richiesti esplicitamente dalle imprese. E' questa la novità assoluta dell'iniziativa lanciata da Camera di Commercio e CNR. Al primo appuntamento al Parco Tecnologico Padano, però, si sono presentati in pochi, malgrado gli inviti inoltrati alle imprese agroalimentari non solo lodigiane. C'è tempo per recuperare dal momento che la prima fase del progetto prevede infatti altri momenti per far emergere le necessità delle aziende. L'anno prossimo, invece, scatterà il bando gestito dalla Camera di Commercio con il quale finanziare concretamente le ricerche scientifiche indicate dalle imprese.